Salve a tutti e benvenuti ad una nuova recensione. Prima di iniziare effettivamente il filmato, volevo linkarvi nelle info il canale di My Perfect World, che è un ragazzo che tratta di recensioni sia di film, fa gameplay, inoltre stilla anche le pagelle sia di videogiochi sia dei film e devo dire che appunto il suo stile è abbastanza personale, abbastanza originale e soprattutto è veramente completo a 360 gradi e mi è piaciuto fin da subito insomma il suo canale e abbiamo deciso insieme di fare una collaborazione, per cui presto su questo canale e anche sul suo vedrete una collaborazione su film, molto probabilmente La Maschera di Cera, il film del 1953 e ripeto è un ragazzo a mio parere talentuoso, soprattutto pieno di idee, perché mentre io diciamo che faccio solamente recensioni, quindi magari rompo anche un po' le scatole, lui tratta invece di tantissimi temi e quindi io ve lo consiglio proprio per il suo multiforme ingegno, citando un po' mero. Volevo dirvi che dai prossimi video in poi pensavo di pubblicizzare molto di più altri canali perché la trovo un'iniziativa abbastanza importante, perché non si cresce diciamo da soli, non si cresce purtroppo da zero e non bastano solamente le idee, ma ci vuole anche diciamo una sorta di rete di contatti, rete di pubblicità in modo da farsi conoscere, per cui mi sembra giusto, facendo io comunque parte della community di YouTube, aiutare gli altri e che gli altri aiutano me, ovviamente se ci sono idee, se c'è del talento dietro. Detto questo, iniziamo con il film di oggi e la categoria che appunto mi accingo a presentare è chiamata per le odierne, cioè io presento film recenti che a mio parere sono film horror di qualità e che potrebbero presto diventare anche cult. È una categoria nata per decostruire un po' quell'idea che l'orror contemporaneo, l'orror moderno faccia schifo, ma trovare appunto e recensire alcuni film sia famosi sia invece diciamo un pochino più indipendenti, più nell'underground, che però meritano davvero di diventare dei cult o comunque di essere conosciuti, poiché fanno discutere, poiché davvero sono degni rappresentanti del genere e portano qualcosa di nuovo all'interno della cinematografia. Perché dire che i film horror moderni facciano schifo è un po' populismo, un po' qualunquismo, bisogna andarci con le pinze. È vero, la maggior parte dei film horror contemporanei fa schifo, ma questo è per tanti motivi fra cui si presta più attenzione agli effetti speciali. Ormai la grande produzione di horror è quella americana, priva di idee. Ripeto, terzo punto, mancano le idee. Quarto punto, la cinematografia horror moderna è fatta solo da prequel, sequel, remake, che due palle. Però dentro questa cozzaia ci sono anche dei piccoli, piccoli, barra grandi capolavori, come il film che appunto oggi mi presto a presentarvi, che è The Badadook, un film del 2014 diretto dalla regista australiana Jennifer Kent. E già diciamo un piccolo particolare che si nota è quello della regia tutta al femminile. In genere nei film horror è la regia maschile che prevale, quindi spesso un mondo che è stato accusato di misoginia, spesso un mondo che vede tutto dal punto di vista maschile. E quindi già il fatto che questo film sia stato girato da una donna, a mio parere, è già un punto forte. Il fatto che questo film sia stato girato da una donna è interessante per alcuni aspetti, tra cui il fatto che finalmente possiamo vedere una tematica che è quella della psicologia umana, in questo caso della, come vedremo tra poco, della psicologia infantile, della psicologia materna, visti dal punto di vista di una donna. Cioè tutto questo film viene filtrato da un punto di vista femminile, un punto di vista più intimo, spesso più profondo e maturo rispetto a quello maschile. questo film ha una trama molto semplice, parla di una donna che se non sbaglio si chiama Amelia e del suo figlio che sostanzialmente hanno, Amelia insomma ha perso il marito mentre il figlio ha perso il padre durante un incidente stradale e quindi vivono praticamente la loro vita da soli. Una vita anche abbastanza triste, Amelia lavora in una clinica per anziani ma ovviamente si vede almeno nel film che lo fa semplicemente per portare avanti la casa perché non è sicuramente la sua vocazione. Inoltre è una donna sola, priva di amici e anche il figlio è abbastanza particolare, è ossessionato da questa idea che esistono dei mostri che vogliono appunto impossessarsi di questa casa, vogliono uccidere sua madre e quindi lui la protegge. E già qui vediamo uno spunto interessante nella personalità del figlio che per quanto nel film è un assoluto rompipalle che veramente lo prenderesti a sprangata in faccia, è interessante da notare un particolare, il fatto che il figlio ha perso il padre e dunque ora temendo di perdere la madre inventa queste storie di mostri per poterla proteggere, inventare dei piani, degli stratagemmi per proteggerla meglio. E già qui si sente molto lo stampo psicologico di questo film e soprattutto l'indagine attenta e scandagliata proprio della psiche, in questo caso infantile. Un giorno la madre trova un libro di favole, che è appunto il libro di Badadook e lo legge al figliolo. In pratica la storia parla di questo Badadook che entra nelle case e di lui non si può più disfare, una sorta di moderno boogieman, una sorta di moderno uomo nero. La madre ovviamente pensa che sia tutta una favola, lascia andare il libro, lascia andare a letto il figlio e buonanotte. Ma il figlio è sempre di più ossessionato dall'idea dell'esistenza reale di questo Badadook, tanto da avere comportamenti strani a scuola, tanto da avere comportamenti strani con la cugina, per esempio la spinge e la fa cadere dalla casa sull'albero durante la festa di compleanno e sempre di più proprio tenta in tutti i modi di proteggere la madre. A un certo punto la madre per disperazione brucia questo libro, non vuole più sapere niente e urla al figlio che il Badadook in realtà è solo frutto della sua immaginazione. Ma questo libro torna, misteriosamente questo libro torna ed è alquanto inquietante perché ogni volta che Amelia riapre questo libro si aggiungono pagine che completano la storia di questo Badadook e si vede che praticamente entra, si impossessa del corpo di Amelia e la storia di questo libro termina con Amelia che sgozza prima il suo cane e poi lo stesso suo figlio. Amelia è intimorita, non sa che altro fare, si rivolge alla polizia ma ovviamente non c'è niente da fare e a un certo punto pian piano entra in un escalation di tensione, in un escalation di allucinazioni, di fatti inizia a credere anche alla presenza di questo Badadook, sente dei rumori durante la notte, poi pian piano tutto si sviluppa in climax, dai piccoli rumori avverte strane ombre, poi da strane ombre avverte la forma della mano che apre magicamente la porta, non riesce più a dormire, quindi praticamente ha un carattere molto più isterico, non va più al lavoro, si chiude, anzi si barrica in casa col figlio fino ad arrivare proprio all'estrema pazzia di uccidere, di strangolare il cane, ma quando sta tentando di strangolare il figlio e quindi è arrivato ormai all'acmea, al culmine completo della sua follia, l'amore verso il figlio e appunto il figlio stesso la persuadono a resistere al Badadook e difatti Amelia si ribella a questa entità e il tutto finisce che appunto Amelia lo sconfinge ma lo rinchiude in cantina e il finale finisce proprio con Amelia che durante il giorno del compleanno di suo figlio porta del cibo al Badadook chiuso in cantina. Trama abbastanza, ripeto, a parte il finale che è un pochino particolare, il resto voglio dire è nella norma, lo sei visto in tanti altri horror. Quali sono allora le particolarità che rendono The Badadook un film interessante, anzi direi una perla contemporanea, oltre il punto di vista psicologico di una regia femminile che appunto fa vedere il mondo in maniera più intima, più complessa e più matura. Abbiamo già visto alcuni pensieri appunto del figlio e questa psicologia infantile della protezione. Dal punto di vista della mamma entriamo in un'altra psicologia materna fatta soprattutto da traumi, fatta soprattutto da ferite perché ha perso il marito. Ha uno strano rapporto col figlio poiché il figlio è abbastanza particolare, è una persona senza amici, una persona che spesso si chiude, che vuole appunto che è fissato con questa idea della protezione materna, quindi spesso la madre arriva a non sopportare, a non tollerare più il figlio e quindi appunto a provare un istinto omicida. verso il figlio stesso, considerato come un po' il frutto del peccato, il frutto del suo male, perché il marito di Amelia morì, sì durante un incendio stradale, ma quando stava appunto portando Amelia all'ospedale per il parto. Quindi in poche parole il figlio per la madre rappresenta comunque da un lato una conquista perché appunto è suo figlio, è nato in una situazione così particolare, però dall'altro è anche, rappresenta la rinuncia a suo marito che è morto e il ricordo del figlio automaticamente introduce al ricordo del marito morto. E questo nel film lo si vede molto perché il fantasma del marito compare molto spesso e anzi è sempre un po' caratterizzato da quest'alone di male, è una figura maligna. E questo perché? È una figura maligna perché il padre rappresenta il passato, rappresenta il trauma vissuto da questa donna nel passato, ma la vita va avanti. Bisogna imparare a superare i traumi sia che siano piccoli sia che siano grandi e andare avanti, costruire il proprio futuro sulla base del passato, ma che questo passato sia la base, non che sia al centro dell'esistenza. E questo è il significato portante di tutto il film, che come vedete indaga perfettamente sia la psicologia infantile sia la psicologia materna in un'amalgama che ci porta a questo significato un po' stoico, sarei di dire. È assolutamente interessante, cioè quella di analizzare praticamente un trauma, un trauma molto forte come può essere la morte di una persona assai cara in una situazione molto particolare che è quella appunto del parto e quindi la nascita del figlio che corrisponde alla morte del padre. È su questa diciamo equazione che la regista impianta tutta la storia del film, che altro non è se appunto una analisi sul superamento di questo trauma. E dunque il Badadook, questo moderno uomo nero, non è altro che l'allegoria di questo trauma, l'allegoria del male e del passato che coinvolge a 360 gradi la famiglia. E di fatti solamente grazie all'amore, solamente grazie al bene, al trionfo, insomma, al trionfo dell'affetto fra madre e figlio che si riesce a superare il trauma, si riesce a superare la paura del passato. Però questa paura non scompare del tutto perché un evento così traumatico non scompare del tutto. Infatti abbiamo detto che il passato deve essere una base su cui costruire il futuro perché il passato rimane. Semplicemente bisogna prendere questo passato e portarlo dall'essere al centro dell'esistenza all'essere una base, essere un fondamento, sì. Quindi qualcosa di marginale, qualcosa che diventa presto un sostrato verso cui si costruisce una casa. E di fatti il Badadook viene rinchiuso in cantina, cioè è la base di una nuova vita, perché di fatti il ricordo del marito barra padre rimarrà per sempre. Però questo non significa che non bisogna andare avanti con la propria vita. E quindi il Badadook, allegoria del male, allegoria del trauma, viene tra virgolette non tanto sconfitto ma confinato, confinato praticamente dentro le mura della cantina. questo proprio a simboleggiare il fatto che se vogliamo simboleggiare la nostra vita come una casa, noi dobbiamo costruire la casa dalle fondamenta, cioè dal passato, ma andare avanti fino ad arrivare al tetto. Non possiamo fermarci solamente alle fondamenta, rendendole diciamo la parte portante della casa, come se appunto la cantina fosse il luogo principale della nostra casa. E questa è tutta l'allegoria, tutta la metafora che il film racconta in modo assolutamente magistrale, perché l'horror non sta tanto nell'apparizione di questo mostro, che peraltro si vede solamente nel finale e basta, ma sta soprattutto in questo crescendo, in questo climax di emozioni che appunto partono dai suoni fino ad arrivare all'effettiva comparsa del mostro, che rappresentano appunto il trauma che man mano si insinua sempre di più nella psiche della protagonista e entra a far parte appunto della vita. E un'altra scena magistrale è quando il mostro si impossessa definitivamente del corpo della madre, poco prima insomma che Amelia riesca a sputare fuori il male e la scena è appunto il combattimento finale fra il mostro che è entrato e lei che lo deve far uscire. Ed è un combattimento che rappresenta appunto emblematicamente il superamento, il superamento di questo trauma. Di fatti Amelia quando fa uscire il mostro sputa, anzi vomita, ingurgita liquido nero e il nero è simbolicamente il colore del male, il colore appunto di questa forte ferita che finalmente è uscita dal corpo della vita di tutti i giorni ed è entrata a far parte ufficialmente del passato, di un passato ormai rinchiuso in cantina, cioè esiste, bisogna ricordarsene, ma bisogna andare anche in soggiorno, cioè bisogna andare avanti. E questa è una scena, questo è il combattimento e poi del sputare questo liquido nero che può sembrare all'apparenza, voglio dire una scena, una scenetta così insomma tanto per chiudere il film, ma in realtà è proprio l'emblema del superamento di questo trauma. Altre cose interessanti di questo film perché ce ne sono davvero tante, anzi più uno lo guarda e più si accorge di alcuni particolari davvero interessanti. Di fatti un particolare molto importante è il libro, cioè la storia del Badadook. Questo non ha i fini della trama, non ha i fini dell'allegoria, è semplicemente ai fini estetici, perché è un libro assolutamente fatto veramente artisticamente perfetto. È un libro in bianco e nero, tridimensionale, avete presente quei libri che si aprono e esce la figura? Ecco, è un libro del genere tutto in bianco e nero che racconta la storia di questo uomo nero che entra appunto nelle case. E c'è una scena bellissima, quando Amelia ritrova questo libro dopo averlo bruciato via, e quindi vediamo la scena della pazzia, della folia della madre che arriva al culmine di ammazzare il cane e il figlio, e si vede praticamente lei, quindi questa figura in bianco e nero, tutta piena di sangue. E il sangue è l'unico elemento del libro a essere rosso. E appunto si vede lei con un coltello in mano e questo sangue, unico elemento colorato in tutto il libro, che le cola addosso e gli occhi completamente bianchi, pieni di follia. E questi sono piccoli dettagli ovviamente, ma che fanno emergere sicuramente una regista attenta a questi dettagli, perché il film non è solo una metafora, a mio parere, perfetta di cosa rappresenta un trauma e di come superare questo trauma, ma è anche un film curato nella fotografia e nel lato estetico. Un altro particolare per esempio è quello della colomba. La parola Duke, non mi ricordo in quale lingua, significherebbe colomba. Quindi in teoria questo personaggio è un po' uno simaro, perché è Badadook che rappresenta il male, però nel suo nome viene iscritta la colomba. Questo perché? Almeno secondo me, perché su questo almeno la regista non ha rilasciato alcuna dichiarazione effettiva o ufficiale. Molto probabilmente perché insito nel male c'è anche il bene, perché effettivamente non esiste una dicotomia perfetta fra il male e il bene, ma spesso nella nostra vita viviamo prima il bene, poi il male, o viceversa, o entrambe le cose. E in questo caso il film tratta appunto del male che entra, del suo superamento e poi del bene. Però quello che appunto è simbolico è che dietro al male non c'è l'idea di un male assoluto, ma c'è intrinseca l'idea anche che questo male prima o poi passi, che sia un male passeggero che bisogna imparare ad assimilare, a razionalizzarlo il male, perché di fatti il film tratta di una razionalizzazione. Le scene in cui la madre impazzisce, sono scene irrazionali ed è nell'irrazionalità che il male impugna insomma il coltello da parte del manico, ma quando pian piano, e lei ci riesce grazie all'amore del figlio, si rende conto della situazione e quindi elabora e riesce a razionalizzare, scusatemi, e riesce a razionalizzare il male, ecco che praticamente il badaduc, del badaduc troviamo la colomba. E a me piace molto questa idea del fatto che, almeno a mio parere, la regista abbia voluto inserire in questo nome l'idea insitasi del male e del trauma, ma che questo trauma possa essere superata. Duke, colomba, il bene. Ed è interessante perché appunto la scena finale del film è il figlio di Amelia, che per magia, poiché mi piace i giochi di magia, fa comparire proprio una colomba, simbolo che appunto questo trauma è stato relegato e che ora può diventare una base per costruire un futuro migliore. Quindi anche in queste piccole cose noi possiamo vedere l'attenzione e la cura, quasi forse maniacale, per dettagli della regista di questo film. E tutti questi particolari sembrano un po' sciocchi, magari singolarmente, eccetera, ma messi insieme creano davvero un'amalgama perfetta di un processo complesso nella mente umana che è il superamento del trauma, la razionalizzazione di un male, chiamiamo, può essere chiamato in tanti modi, ma che è interessante vedere in un film di questo tipo. Molti si sono lamentati perché hanno detto il film non fa paura, il film non mostra scene cruente, come se l'horror dovesse per forza mostrare scene cruente, oppure i cosiddetti jumpscares che ti appare il fantasma e tu salti dalla sedia. Allora, mi potete spiegare, perché io non ho capito, cosa ci sia di più terrificante, di più pauroso, di un trauma. Di un trauma che si staura nella mente umana e praticamente porta alla pazzia, porta alla follia, alla completa distruzione di sé e dei propri cari. Mi potete spiegare cosa ci sia di più terrificante. E questo forse è il problema del perché l'horror contemporaneo spesso è fatto da pellicole non propriamente interessanti. Perché il pubblico non ha, almeno il pubblico medio che va a vedere determinati film horror, non ha ben capito, non ha ben chiaro cosa significa horror. Horror significa terrore, paura, tutto ciò che fa paura. È un po' il concetto del romanticismo, di questo ignoto, di questo sublime, che appunto era qualcosa che faceva paura, ma che non so se stesso tempo affascinava, ma non voleva dire per forza il mostro. Poteva anche essere un paesaggio lunare, poteva essere per esempio una tempesta, poteva essere anche la stessa figura umana, per esempio, rappresentata in alcuni momenti particolari. E l'horror, il genere horror, riprende questo concetto romantico del sublime, perché di fatti va ad indagare tutte quelle particolarità, tutte quelle dimensioni della realtà che spesso ci fanno sì paura, ma dall'altro anche ci affascinano. Perché la follia, la pazzia umana è causata spesso, anzi la maggior parte delle volte, da traumi infantili o da traumi che appunto avvengono durante la vita, sì, ci fa paura, ma nello stesso tempo ci affascina. E il film parla di questo, parla di un trauma, parla del suo superamento, però superamento non vuol dire dimenticarsi di questo trauma. Questo in sintesi è il film, è The Badadook. E il film è horror, perché mostra questo aspetto che ci fa paura, ma nello stesso tempo ci affascina. Un aspetto sublimante della realtà, un aspetto sublime. Quindi io non capisco, uno può criticare il film, può dire la sua, perché questo è corretto, è giusto, però io non capisco chi va a dire non ci sono i mostri, non ci sono scene cruente, è un film che non fa paura. Io piuttosto mi chiederei che cosa ci fa paura, perché a me va bene di vedere il mostro che mi compare a casa, mi fa un urlo, io posso spaventare, mi posso spaventare, ma questo non mi serve a nulla, perché non mi porta a nessuna riflessione, non mi porta a nessun, e soprattutto non mi porta a nessun coinvolgimento. Mentre in questo film tu sei proiettato dentro il trauma della protagonista, tu sei assolutamente dentro la sua irrazionalità, la sua completa follia, e vedi come questa follia finisce proprio per distruggere tutto, finché poi non si riesce a superare il tutto. Quindi io non capisco perché una cosa così non dovrebbe fare paura, anzi, io penso che sia una delle cose veramente più terrificanti, perché come una ferita possa davvero provocare la morte interiore, la morte della propria anima, della propria vita, finché uno poi non si rende conto e non razionalizza il sentimento. E questo io credo sia una delle cose appunto più terrificanti, ma nello stesso tempo più affascinanti, perché il fascino della follia è innegabile. E a mio parere The Badadook merita, perché è davvero un'analisi intima, profonda e matura, proprio un'analisi femminile, della psicologia infantile, e di come, scusatemi, la psicologia infantile, e di come la psicologia materna, vanno a elaborare un trauma. Il figlio attraverso questi piani di protezione, la madre attraverso questa figura del Badadook che la porta all'impazzimento, finché appunto non si ritrovano e grazie alla forza dell'amore non riescono a sconfingere il Badadook e a rintanarlo nella propria cantina. Questo è The Badadook, e a mio parere è veramente un fiore all'interno dell'etamaio, del genere horror purtroppo contemporaneo. E, ripeto, è una perla, è un fiore all'interno di questo l'etamaio, proprio perché è un film curato, un film maturo, intimo, e che parla attraverso metafore, e non è facile parlare attraverso le metafore, anzi, è una delle cose più complicate che esistono al mondo. Un ultimo dato, e poi vi lascio, perché dovete assolutamente vedere questo film, è che Amelia, durante le notti insonne, vede dei film. Questi film, alcuni di questi, sono spezzoni di film di Bava, se non sbaglio, di Operazione Paura, però potrei sbagliarmi, perché il film l'ho visto qualche settimana fa, anzi, qualche mese fa, quindi non mi ricordo propriamente. Comunque, sono film di Mario Bava, perché, appunto, la regista ha voluto omaggiare il grande maestro del cinema horror italiano. All'interno, però, di questi film, che sono abbastanza ghiaccianti, perché tu già vedi una che sta impazzendo, che poi si guarda questi film, che già di per sé, insomma, sono terrificanti, in più, in questi spezzoni di film, appare il Badadook, in tanti modi diversi. E davvero, queste scene in cui la protagonista è attaccata al televisore, vede il Badadook comparirgli, sono, a mio parere, terrificanti, anzi, completamente devianti. Ti fanno catapultare in un vortice di irrazionalità assoluta, e questo mi è piaciuto tantissimo. Detto ciò, io vi auguro, ovviamente, di vedere questo film. Io vi ho detto i motivi per cui, secondo me, questo film vale la pena di vedere, vale la pena di considerarlo un horror, a tutti gli effetti, e soprattutto vale la pena di considerarlo una perla, proprio perché dà un contributo importantissimo alla cinematografia, e non solo quella horror, che, appunto, è l'indagine attraverso l'allegolia e la metafora, della psiche umana, e di come la mente umana riesca a superare un trauma così pesante. Spero, insomma, che questa mia recensione vi sia piaciuta, vi ringrazio ancora, insomma, per l'ottimo feedback che mi state dando, con tantissime visualizzazioni, e anche alcuni commenti, non tanto su YouTube, ma quanto su Facebook, ma l'importante, appunto, è confrontarsi. Io spero davvero che anche su questo film si possa avviare un'ampia discussione, e spero anche, insomma, che vediate questo film e lo interpretate a modo vostro, perché anche la bellezza dell'arte è poi quella di essere interpretata. Noi ci vediamo a una prossima recensione, che forse sarà la probabile collaborazione. Vi ringrazio ancora tanto, e ricordate che non c'è nulla di più terrificante che l'essere umano e la sua mente complessa, la sua mente labirintica. A presto!